Buongiorno, la lezione magistrale del professor Davoli è stata molto interessante. Quando mi ha chiesto di presentare qualcosa a questo seminario, mi è subito venuto in mente di approcciare a un livello un po' più alto rispetto alle tematiche del software libero. Io sono un avvocato, giurista di formazione, quindi normalmente mi occupo di software libero, di licenze, eccetera. Però ho voluto affrontare un tema che sembra più filosofico che legale, cioè questo concetto di proprietà intellettuale, che è un concetto comune di cui tutti, coloro che sono più o meno nel ramo del software e del diritto, parlano, però di cui non sono sicuro che tutti sappiano il significato. E volevo analizzare come questo significato, come comunemente inteso o sottointeso, è estremamente pericoloso, perché la confusione dei concetti e il parlare male vuol dire anche comportarsi male e prendere delle decisioni sbagliate, per cui se si capisce ciò di cui si parla, probabilmente si fanno delle cose più giuste. E volevo dare una prova di come il concetto sbagliato di proprietà intellettuale crea dei problemi concreti. In un caso, come quello della Microsoft, in cui, è un caso antitrust che è attualmente presente alla Corte di Giustizia e Comunità Europee, in cui il concetto di proprietà intellettuale è usato male ed è usato contro le libertà, è usato specialmente contro il software libero. Per cui oggi di cosa parleremo? Parleremo del perché il termine proprietà intellettuale è fuorviante, come è nato e come si è sviluppato, perché questo termine è diventato un mito e ha sorpassato la realtà. Parleremo dei rapporti tra la proprietà intellettuale e l'antitrust all'interno della giurisprudenza delle comunità europee, e più in generale all'interno della tutela del mercato e della libertà imprenditoriale, della libertà anche di fare software e software libero, e in particolare, appunto, dicevo prima, il caso Microsoft, in cui io molto immodestamente difendo la Free Software Foundation Europe e il Samba Team, e quale lezione dal punto di vista della tutela della proprietà intellettuale aperta e chiusa le virgolette, ci offre e come questo possa essere appunto pericoloso. Perché si parla di proprietà intellettuale? La proprietà intellettuale è come se fosse una shortcut per un concetto. Quando gli operatori del diritto si trovano a che fare con qualcosa di nuovo, cercano di accostarlo a qualcosa che conoscono. Quando si è cominciato a parlare di tutela di diritti immateriali, ancora prima che esistesse il software, per carità, si è detto, ma come trattiamo queste cose? E un concetto che poteva essere utile era quello appunto della proprietà. Se io ho un bene posso cederlo, darlo impegno, sfruttarlo, disfarmene e quant'altro. Lo stesso con dei diritti e lo stesso con i diritti che venivano attribuiti a chi era inventore di un'invenzione, autore di un'opera, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui il concetto di proprietà, da un concetto strettamente nato nel mondo fisico, è stato allargato al mondo delle idee. Ovviamente la domanda che viene spontanea è, ma posso essere io proprietario di un'idea? Io posso essere proprietario di quest'asta di microfono? Se qualcuno cerca di portarmela via, io posso reagire, tutelarmi, posso andare ad un poliziotto dicendo, mi ha portato via l'asta e farmela ridare, fare una causa, procedere per furto. Un'idea, una volta che io l'ho comunicata, diventa a disposizione di chi la ascolta. Non ha una natura fisica, ha questa proprietà moltiplicativa e dispensiva. Come diceva Thomas Jefferson, se io ho una candela e ho del fuoco su questa candela e passo del fuoco sulla tua candela, entrambi abbiamo una candela e del fuoco, quindi abbiamo moltiplicato, mentre se io ho quest'asta e uno me la porta via, lui avrà un'asta e io non l'avrò più. Per cui il concetto di proprietà delle cose reali, mal si attaglia al concetto di proprietà delle idee. Per cui bisogna avere un grabo di estrazione sufficiente per capire ciò di cui esattamente parliamo. Se noi usiamo il termine proprietà, lo usiamo come un trucco per agganciare dei concetti che ci sono familiari, avendo presente di cosa si tratta. Il fatto è che quando io metto un'etichetta, uso una parola per definire un concetto, questa parola può avere più o meno forza evocativa. Il termine proprietà ha un forte connotato culturale, qualcosa che è radicato nel subconscio, è qualcosa che è legato alla lotta per la sopravvivenza, è qualcosa che è legato all'istinto di territorialità. La mia casa ho il diritto di escludere qualsiasi persona e in certe culture è legittimo uccidere per difendere la proprietà, per cui è un concetto che ha delle radici profonde. E per cui quando noi usiamo quel termine evochiamo dei concetti molto molto forti. Il concetto di furto, il furto è una tra le azioni più avviette, viene subito dopo l'omicidio, in molte culture viene il più grave dello stupro, in certe culture viene il taglio della mano per chi ruba, quindi è superiore anche all'integrità fisica. E quindi se la proprietà intellettuale è proprietà, chi sia proprio di proprietà intellettuale commette furte, quindi il furto di idee non può che essere una cosa avvietta. Però se noi invece di usare le parole che abbiamo usato, ci astraiamo da come le abbiamo definite e le riportiamo a ciò che in realtà sono, e quindi invece di proprietà intellettuale lo chiamiamo brevetti, li chiamiamo copyright, li chiamiamo diritti sui genes, eccetera, eccetera, eccetera. E invece di impossessarsi, diciamo, utilizzare al di fuori del permesso del titolare, ecco che si desensibilizza il concetto di proprietà intellettuale e viene ricondotto a ciò che in realtà è. un conflitto tra una pretesa di usare un diritto e una pretesa di escludere dalla possibilità di usare quell'idea oggetto del diritto. Tutto ciò per chiarire che il concetto di proprietà intellettuale, come ridefinito e come desensibilizzato, non è una cosa assoluta. Non è assoluta nemmeno il concetto di proprietà dei beni fisici. Attenzione, questo è un falso mito. La proprietà naturale, la proprietà dei beni fisici, incontra dei limiti. Ne ho alcuni, ne ho l'uso capione. Se io non uso una cosa e un altro la uso per vent'anni, diventa proprietà sua. Una cosa può essere spropriata per pubblica utilità. Su un terreno posso avere una servitù. Se ho un terreno che non ha un facile accesso alla strada e un altro fondo mi interclude, io posso coattivamente pretendere di passare sul terreno dall'altro. Io, proprietario del terreno, devo tollerare che altri versino sul mio terreno. Scoli, rumori, fumi. È un'altra serie di atti che limitano la mia proprietà. Per il benessere comune. Quindi non è una cosa assoluta e intoccabile. Se non lo sono, se non lo è la proprietà naturale, a maggior ragione non lo sono i diritti di privativa. Non lo sono per scelta stessa del legislatore, attenzione, non perché lo dico io. Se noi parliamo di brevetti, per godere della protezione brevettuale io devo fare un uso sufficiente del brevetto per l'economia nazionale. Se non lo faccio posso essere oggetto di una licenza obbligatoria. Devo descrivere correttamente, compiutamente l'idea perché altrimenti, teoricamente almeno, non mi può essere accordata la proprietà di un brevetto. Anche dove ci sono degli spazi di privativa valida, esistono degli spazi invece di libertà che fanno riespondere la libertà che abbiamo tutti di usare delle idee. E tra questi ci sono gli usi legittimi. Non è vero che copiare software è un reato, non è vero che copiare musica è un reato. È falso e chi lo dice è stato anche condannato dal giurio della pubblicità perché ci sono dei casi in cui si ha diritto di copiare software, si ha diritto di copiare musica. Ed è vietato, ed è nullo ogni accordo che tenda a escludere questo diritto, ad esempio, per fare una copia di brevetto. I DRM, parentesi, adesso c'è un nuovo caso, proprio qui a Bologna se non sbaglio, in cui delle persone, dei private, hanno fatto caso alle meggio perché i DRM impediscono il diritto di copia che è normativamente concesso. Io non posso fare la copia di backup che il diritto mi dice che è il mio diritto. Perché? Perché fisicamente non lo posso fare. Perché mi è impedito, perché una misura tecnica va a soprassedere a quello che la sovranità dello Stato mi riconosce, anzi, la sovranità di una convenzione internazionale. Oppure, se io faccio un'invenzione derivata, ho il diritto di ottenere una licenza dell'invenzione originale per poter attuare un'invenzione di sviluppo. Per cui, è falso che vi sia un'assolutezza del diritto della proprietà naturale, è falso, a maggior ragione, che vi sia un'assolutezza del diritto di proprietà intellettuale, se mai esiste. Ma, come nasce un mito? E come nasce il mito della proprietà intellettuale? Ora, come mito si possono dare due definizioni che mi pare si attaglino. La prima è una spiegazione leggendaria circa l'origine di un concetto o un evento storico sociale, spesso con connotati soprannaturali. Da alcuni diritti, da alcune guarantige, da alcune aree di salvaguardia, da alcuni monopoli normativamente creati, si è estratto il concetto che a questo è proprietà. Quindi, se è proprietà, deve essere tutelato come la proprietà. E quindi, col concetto giusnaturalistico della proprietà intellettuale, si è giustificato una mitizzazione di alcuni diritti facendo una categoria generale. per cui non si parla più del diritto di autore, non si parla più del marchio di impresa, non si parla più dei brevetti, ma si parla di questo mito della proprietà intellettuale che, essendo un mito, tutto giustifica. La seconda definizione che mi pare, anche se si attaglie bene, è quella di credenza esagerata, e qui sicuramente c'è un'esagerazione, o idealizzata, e anche qui ci siamo, circa una persona o un concetto. Ad esempio, il mito dell'età e della giovinezza, o altri miti, il mito della ricchezza. E anche qui c'è un'effettiva generalizzazione, un'effettiva esagerazione di qualcosa che era un uso euristico, cioè per la ricerca di una verità, di una cosa sconosciuta, che è diventata una cosa valevole di per sé. Ciò che contribuisce di più, però, a far nascere il mito della proprietà intellettuale sono le convenzioni internazionali. Ora, si potrebbero spendere delle ore parlando delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale. Ve ne sono molti, ad esempio, le convenzioni all'interno del WIPO, come il TRIPS, oppure la convenzione di Berna sul copyright, le quali fanno pensare che esiste un dito addirittura sovraordinato agli stati che tutela la proprietà intellettuale. Se uno va invece a vedere le convenzioni, non è affatto così. Anche le convenzioni internazionali sono un mito che creano e rafforzano il mito della proprietà intellettuale. Per cui si dice, ah no, ma non possiamo toccare i brevetti. Perché? Perché ci sono i TRIPS. Eh, sì, ci sono i TRIPS. Ah, allora, se ci sono i TRIPS, allora non li tocchiamo. Se però uno va a leggersi, va a leggersi i TRIPS. E mi sono andati a leggere. Ci sono anche lì delle ragionevoli eccezioni. C'è una normativa che tiene presente i diritti dei grandi produttori di proprietà intellettuali, in primo luogo gli Stati Uniti e gli Stati occidentali, e tiene anche presente il fatto che esistono i paesi che domandano l'accesso alla tecnologia, e quindi i paesi cosiddetti del sud del mondo. Quindi c'è una contemperazione, un contemperamento fra le esigenze di chi intende tutelare la cosiddetta virgolette proprietà intellettuale, e chi invece ha l'esigenza di utilizzarla per scopi anche importanti. Sudafrica ha detto, me ne frego dei brevetti sui farmaci perché la mia gente muore, muore. Tu hai la proprietà intellettuale, ma c'è la gente che muore per strada. E quindi me ne frego dei tuoi brevetti e fate quello che volete. Questo all'interno delle convenzioni internazionali è possibile. È possibile perché ci sono delle cause di salvaguardia, ma se uno dici no, c'è il WIP che ci sovrintende, ahimè, ahimè, abbiamo rinunciato l'ostra. Sovranità. E questo è sicuramente sbagliato. Passiamo continuamente a un campo diverso. E parliamo di antitrust. Cosa c'entra l'antitrust con la proprietà intellettuale? E c'entra. Lo vedremo fra un po'. Però difendiamo di cosa stiamo parlando. L'antitrust è una normativa che nasce negli Stati Uniti, alla fine dell'Ottocento, con lo Sherman Act. Quindi non nasce a San Pietroburgo nel 1917 con la rivoluzione comunista, tutt'altro. È una legge rigorosamente liberale. E tende a prevenire i fallimenti del mercato. I cartelli e gli abusi di posizione ominante. Il primo caso in cui è stato applicato nel 1911 è il caso Standard Oil. L'antitrust, o la tutela della concorrenza, è una legge un po' particolare, che fa un ampio ricorso alla cosiddetta rule of reason. Cioè risente di concezioni politiche del diritto. Attenzione, anche il diritto della proprietà intellettuale risente di considerazioni politiche e politico-economiche del diritto. Quindi questa è già una prima equiparazione dei due campi che in realtà ci si dimentica molto spesso. Della quale ci si dimentica una legislazione antitrust importante perché porta più prodotti, ha un minore costo e prodotti migliori. Faccio sempre questo esempio molto banale, che non dà assolutamente l'idea, ma può essere un'introduzione. Se io ho un panettere solo in un paese, avrò pane cattivo e che costa tanto, se ne avrò due e se non si mettono d'accordo, se uno non è in grado di fregarsi nell'altro, avrò pane migliore. Se c'è una situazione di concorrenza, avrò una situazione migliore piuttosto che una situazione di monopolio perché l'imprenditore ha interesse a minimizzare i prezzi e far ritendere la costo marginale e si ha una pressione dei concorrenti per migliorare i propri prodotti. E l'imprenditore in concorrenza, a differenza del monopolista, ha poco potere. Ora mi chiedo, ma secondo voi e secondo me, nel mercato del software esistono i monopoli? Esistono sicuramente i monopoli, ce n'è almeno uno che è un monopolio di mercato molto importante di cui farò accenno magari successivamente. Ma la privativa stessa, data dalla proprietà intellettuale, è un monopolio. Per cui bisogna stare attenti quando si crea una diritta privativa perché si corre il rischio di creare un monopolio. Quindi un eccesso di protezione può creare un abuso del mercato e far fallire il mercato. La proprietà intellettuale, aperte così alle virgolette, o l'abuso di essa, o l'abuso dei diritti di cosiddetta proprietà intellettuale, corre il rischio di far fallire il mercato e di creare o rafforzare i monopoli. In realtà si giustifichano i monopoli creati dalla privativa col fatto che intanto non sono dei monopoli assoluti, intanto ci può essere concorrenza dalle varie invenzioni. E questo è vero per le invenzioni industriali, è vero per i modelli, è vero per tante altre cose. Se io ho brevettato i promessi sposi non è che non possa fare un altro romanzo in cui due persone si incontrano, vengono osteggiate e alla fine si sposano. Perché c'è una limitazione, lo scopo è molto limitato, quindi è una limitazione, un monopolio di poco conto dal punto di vista economico. Ma potrebbe diventare, se quella privativa è una cosa molto importante che determina l'accesso al mercato, quella piccola protezione può diventare enorme, avere un effetto leva enorme. Nel software vedremo, è esattamente il caso. Il fatto è che è ben strano che sia la concorrenza, cioè il diritto della concorrenza o il diritto antitrust, sia le protezioni dati dai diritti di cosiddetta proprietà intellettuale sono indirizzati allo stesso obiettivo, cioè di avere più prodotti, prodotti migliori, a un maggiore numero di persone e un accesso migliore alla conoscenza che altrimenti, come diceva giustamente Renzo prima, verrebbe conservata in segreto. Se io non avessi brevetti, le invenzioni verrebbero tenute nel segreto dei laboratori, delle industrie, avrei dei prodotti, potrei fare un reverse engineering dei prodotti, ma le idee non verrebbero comunicate, non andrebbero nel dominio comune alla fine del periodo di protezione. Ne potrei fare delle invenzioni di miglioramento, perché i brevetti costituiscono lo stato dell'arte, ad esempio, e io posso usare lo stato dell'arte anche se protetto per fare delle invenzioni di miglioramento e ottenere delle licenze obbligatorie. e quindi solo in casi eccezionali proprietà intellettuali cosiddetta e concorrenza sono in contraposizione. Normalmente dovrebbero tendere allo stesso risultato con strumenti diversi. Nella giurisprudenza europea si è visto che esistono dei casi in cui la proprietà intellettuale è un grosso freno alla concorrenza. Il primo caso è un caso storico, il caso McGill, che riguarda il diritto d'autore e il diritto sui generi della protezione delle banche e dati. Non faccio un'analisi approfondita della giurisprudenza, perché non è questa la sede giusta, ma quello che è importante è che si è stato deciso che ciò che era oggetto della pretesa di proprietà intellettuale a parte di usare le virgolette, quindi il copyright e il diritto del database sui programmi televisivi era quello che si chiama un essential facility, cioè una cosa da cui bisognava passare per forza per avere l'accesso a un nuovo prodotto, un prodotto non già esistente, cioè una pubblicazione che facesse della critica, anticiparsi i contenuti delle situation comune, della SER, eccetera, eccetera, eccetera. Casi eccezionali, ma anche qui il diritto a una sana concorrenza ha fatto sì che chi legittimamente, secondo il diritto, vantava di diritti di copyright e sui generi di database, dovessi rilasciare una licenza obbligatoria. Il più recente è stato il caso IMS Health, che anche questo ha creato una giurisprudenza molto radicata nella Corte di Giustizia dei Comiti Europei e che vi risparmio per brevità, la cosa che mi interessa è che è stato creato qui uno standard de facto, cioè l'effetto retto di cui diceva Renzo, per lo stesso fatto che uno standard arbitrariamente scelto o anche scelto con un certo investimento, per carità, come la struttura a mattoni per la rappresentazione del mercato farmaceutico, una cosa su cui è stata investita molta ricerca da parte dell'IMS Health, per il fatto che è stata usata e per il fatto che tutti si aspettavano i dati farmaceutici da chiunque provenissero di essere rappresentati in quella modalità, è diventata anch'essa uno standard de facto, quindi un essential facility per la presentazione dei dati. E quindi anche qui il rifiuto di licenza è diventato una cosa che legittima all'inizio è diventata illegittima perché è abuso di posizione dominante. E il terzo caso, che viene a fagiolo, è il caso Microsoft, in cui queste giurisprudenze, queste esigenze si sono scontrate ai massimi livelli. Non mi pare il caso di dover rappresentare la Microsoft di cosa fa e quali sono i suoi prodotti, quello che è importante è che in un determinato mercato i protocolli scelti anche arbitrariamente da Microsoft per comunicare con altri, tra PC e PC in ambito workgroup o tra server e PC o tra server e server, sono diventati uno standard de facto, per cui con l'ubiquità della presenza di Microsoft, chiunque volesse aggiungersi alla rete con un'altra macchina, con un sistema operativo diverso, doveva per costruzioni tecniche e costruzioni culturali usare gli stessi standard, non potendolo usare perché sotto segreto e sotto anche pretese di copyright e a volte anche di brevetti, il rifiuto di licenza, il rifiuto di rivelare questo segreto è stato ritenuto dalla Commissione, non da me, un abuso in posizione dominante, cioè un mezzo con cui Microsoft cercava di proteggere il proprio mercato nel sistema operativo per PC e di estenderlo a mercati adiacenti. E quindi è stato riconosciuto un abuso in posizione dominante e quindi Microsoft è stata condannata a rilasciare le informazioni e a licenziarle sotto condizioni RAN, che vuol dire reasonable and non discriminatory, cioè ragionevoli e non discriminatori. Allora, molto brevemente vi dico come si procede in un caso di questo tipo e per cui possiamo capire a che punto ci troviamo. Una causa antitrust comincia con una segnalazione, c'è un'investigazione formale da parte della Commissione, la Commissione sente le parti e i terzi, si emette uno statement of objection, cioè una contestazione formale, c'è un'udienza successiva a cui le parti e la parte contestata può partecipare, c'è tutta una procedura che garantisce il contraddittorio anche in fase amministrativa, c'è un independent hearing officer in questa udienza e solo a questo punto, e ci sono voluti 4 anni nel caso Microsoft, c'è una decisione, per cui non è una cosa che viene fatta così, perché si sveglia una mattina il commissario Monti e decide che Microsoft deve essere punita. Questa è una cattiva rappresentazione. Rispetto a questa decisione, può essere opposto un appello giurisdizionale al Tribunale in prima istanza, anche sotto forma di un procedimento d'urgenza per la sospensione della decisione, che di per sé è immediatamente efficace, e successivamente può essere fatto appello al grado superiore, che è la Porta di Giustizia delle Comunità Europee, che è il massimo grado della giurisdizione europea. Nel caso Microsoft siamo passati attraverso tutti questi passi. Marzo 2004 decisione Monti, dopo 4 anni di investigazione, anzi probabilmente 5, il complaint originario era del 98, giugno 2004 è stato fatto l'appello, dicembre 2004 la sospensione non è stata concessa, per cui nel 2005 Microsoft ha iniziato a dover rispettare la decisione, che fino a quel punto è stata autosospesa dalla Commissione. Nel dicembre 2005, cioè un anno dopo, la Commissione si è stato fatto dicendo caro Microsoft non hai rispettato i termini dell'accordo. Nel marzo 2006 abbiamo avuto l'udienza per decidere se Microsoft dovesse essere punita con ulteriori multe rispetto a quelle originari. Nell'aprile 2006 abbiamo fatto l'udienza di merito, nel giugno e luglio 2006, se non ricordo esattamente, le sanzioni sulla seconda fase sulla compliance sono state confermate, nell'ottobre 2006 si è portato un ulteriori appello e questa è la cosa più interessante, a giorni o a mesi la Commissione dovrebbe prendere in esame una cosa che è stata lasciata da parte, cioè la concorrenza. Perché chi è che è concorrente di Microsoft? In questo settore ce n'è uno solo che si chiama Samba e Samba è open source, Samba è software libero e Samba è sotto GPL. È ben strano che dopo 6-7 anni stiamo ancora per iniziare a discutere dell'unico operatore che è interessato da queste cose, che è appunto Samba Team, che è tra l'altro mio cliente. È un altro paio di mani. E' importante che non soltanto noi o voi dell'open source o del software libero stiamo aspettando con ansia che ci siano queste cose, ma c'è tutta una serie di industrie che fanno miliardi di dollari fatturato e che fanno miliardi di dollari fatturato sull'open source o su software libero. 1.4 miliardi di dollari in un solo quadrimestre, mi sembra che sia stata l'ultima rivelazione di IDC. Quindi è una cosa sostanziale, non una cosa irrilevante. E il fatto che ci siano più sistemi operativi open source, Linux, ma anche altri, è sicuramente importante per tutto quello che ci sta sopra. Ma non è soltanto questo che è in ballo nel caso Microsoft. Microsoft è Armageddon. Il caso Microsoft è il re der azionem tra chi pretende di assolutizzare la proprietà intellettuale e fare uno scudo contro la concorrenza e contro ogni altro legittimo diritto degli utenti, compreso quello di rilasciare software libero che sia efficace ed efficiente, compreso quello di studiare, compreso quello di interfacciarsi con il software proprietario, che esiste ed è lì e non lo possiamo ignorare, e in generale se il concetto di proprietà intellettuale aperta e chiusa le virgolette sia, non solo d'inciampo, ma addirittura sia un ostacolo insormontabile per una politica antitrust, per una politica di apertura della concorrenza, e per una politica di libertà, che è quello che si cerca di portare. Ma non solo. Qui è in gioco il concetto stesso di sovranità di uno Stato. La legge antitrust è una legge in cui lo Stato pretende, secondo me ha ragione, di regolare il mercato quando questo fallisce, di non lasciare le cose come stanno a qualsiasi abuso. E quindi è anche il concetto stesso di sovranità di uno Stato o di un'Unione di Stati come la Comunità Europea o l'Unione Europea, e quindi di uno Stato di diritto, dove il diritto non la forza, è la pietra di paragonare per sapere se è una cosa illecita o illecita, se è possibile o non è possibile, cosa che con i brevetti, ma soprattutto con i DRM, verrà completamente spazzata via, perché io posso avere tutti i diritti di questo mondo, ma se non mi è consentito fisicamente di esercitare i miei diritti, i miei diritti sono carta straccia. Se io ho il diritto di proprietà, ma chiunque è libero di portarmi via il computer, è una proprietà un po' valorda, se io ho il diritto di fare una coppia e questa coppia non mi viene consentita, il mio diritto va a farsi i benediri. se io ho il diritto di sentire la musica, sulla musica su qualsiasi supporto che mi è comodo in quel momento, e pago anche per questo diritto, dovrebbe essermi consentito appunto di portarlo su un iPod, sul mio videoregistratore, sullo stereo, ho portato col DRM, e questo non mi è impedito. Quindi mi si comprime, al di fuori di ogni diritto, mi si comprime la mia sfera di libertà individuale. Questo meriterebbe due, forse tre ore di discussione, ma il tempo è tirano, quindi bisogna condensare, ma è importante sapere di cosa stiamo tornando. E in cosa la sentenza, la causa Magsof, è indicativa di un pericolo attuale concreto? Dice Microsoft, sono forti, non sono mica di deficienti, sono bravi, e hanno preso anche degli avvocati, non è che si è fatti andare là di la S74P e la strategia normale di stupidaggine, hanno preso l'avvocato che ha difeso la commissione europea nel caso McGill, avete visto il primo caso di proprietà intellettuale con tanti trust, o viceversa, è stato il caso McGill, l'ha vinto un avvocato che si chiama Ian Forrester, che è un barista di Glasgow, ma è poi sostenato a prendere questa persona qua, che ha creato un'oggi di prudenza, adesso sta cercando di creare un'oggi di prudenza contraria a quella di prudenza che aveva creato a suo tempo. La coerenza non è mai stata il massimo di Microsoft, non può essere dei suoi avvocati, per forza di cose. La coerenza comunque non è un portato naturale di un avvocato, e lo dico da avvocato. si dice, ma caspita, non potete, non potete condannarci a queste cose, perché le dette la nostra proprietà intellettuale. Il mito di cui parlavamo prima, è un mito naturale, quindi ci portate via del nostro, come se io, se vedo una persona che sta sparando un'altra persona, non gli posso portarvi la pistola, è vero che lei ha il suo diritto di proprietà di fare un uso esclusivo della sua pistola, ma se sta sparando un'altra persona, io avrò anche il diritto di portargli la via della sua pistola. Con la proprietà intellettuale, questo evidentemente non lo posso fare. Microsoft sta facendo un abuso di posizione dominante, o meno, viene allegato che Microsoft stia facendo questo abuso di posizione dominante, fino adesso non abbiamo avuto la smentita, ma Microsoft dice, anche se fosse vero, non mi puoi imporre queste condizioni ragionevoli e non discriminatorie, perché facendo ciò mi limiti nella mia capacità di investire, di innovare, perché mi privi della proprietà intellettuale e del segreto che è sottinteso dai miei programmi. Dicendo questo dice, attenzione perché se tu, Comunità Europea, fai questo, vai contro i TRIPS, attenzione, state violando degli accordi internazionali, come se i TRIPS non fossero diritto, e lì ero sovraordinato, ma diritto, e il diritto non è mai assoluto, devi sempre cedere a interessi superiori e in casi particolari. Dice Microsoft, attenzione, questa qui, questa sentenza, non è soltanto per me, perché sono il 95% del mercato dei PC, vale per tutti quelli che sono operatori dominanti, vale per tutti quelli che hanno, per così la virgolette, proprietà intellettuale, quindi, casi farmaceutiche, quindi, casi costruttrici di aerei, come la Boeing, tutte società americane, stranamente, tutti grandi esportatori di brevetti, prima ancora, che di prodotti, come diceva ancora giustamente, prima Renzo, questa nuova colonizzazione della proprietà intellettuale, rispetto all'economia reale, chiuso parentesi, e quindi, se voi fate questo, chiunque sia in posizione di dominanza, quindi ha più risorse anche da investire, non investirebbe perché altri avrebbero un free ride, cioè un passaggio gratis, la possibilità di clonare, queste due parole magiche, free ride è clone, clonare i prodotti dell'operatore dominante, quindi, perché devo investire, se poi non posso avere il giusto ritorno, usando la mia privativa? Insomma, per dirgliela breve, e parafrasando ovviamente, se anche stiamo abusando, non potete farci niente, perché io ho la proprietà intellettuale. Questo è inaccettabile da un punto di vista, generale ideologico, ovviamente, ma è ancora più inaccettabile, perché è falso da un punto di vista fattuale. gran parte di quello di cui Microsoft pretende la protezione, è standard pubblici, standard aperti, standard accessibile, in alcuni casi è anche software libero, SMB-CIS, è una tecnologia sviluppata da IBM e altri, ed è pubblicamente accessibile, è abbastanza pienamente documentata, salvo le istituzioni che ne ha fatto Microsoft. LDAP è un sistema di directory nato in ambito universitario, software libero, esiste l'inistitiva open LDAP, che sta appunto portando avanti un'implementazione di software libero di LDAP, però è completamente specificata, meno le istituzioni che ne ha fatto Microsoft, che non rilascia. Kerberos, Kerberos è dell'MIT, è di un sistema di autenticazione a gettoni, è completamente software libero, è completamente pubblicato, quando sono specifiche, meno la parte di istensione, o parte delle istensioni che Microsoft ne ha fatto. DCRPC è un insieme di, non so neanche come definirlo, comunque di chiamate per file system distribuiti, accesso remoto a risorse, anche questo pubblicato e sviluppato, meno le varianti dei prodotti, SMB è un linguaggio, è uno standard DCRPC peraltro, anche qui ci sono dei protocolli DCRPC che non vengono documentati quanto all'estensione. TCPIP, questo lo conoscono tutti, il software libero per definizione, NTP, il protocollo di sincronizzazione via rete, tutte queste cose qui sono la parte fondamentale di ciò di cui stiamo parlando, quindi non cose che nascono dalla mente di un ingegnere di Redmond che si è fuggiato la mattina, ma anni e anni e anni di elaborazioni in ambito universitario, in ambito di software libero, che vengono estese, abbracciate ed estese, da cui extend and embrace come classificazione del comportamento di Microsoft, e grazie al fatto che di queste estensioni, di queste piccole estensioni, Microsoft ha il diritto di proteggerle, secondo la proprietà intellettuale, questa protezione di questa estensione fa sì che i concorrenti possano sì implementare le cose libere, ma non la parte che interessa di più, e questo quantomeno è una riduzione di efficienza di un nuovo prodotto che dovesse giungere e interfacciarsi con l'esistenza, da cui la frase che ho cognato io, ed è mia, e queste cose non sono segrete perché sono di valore, ma sono di valore perché sono mantenute segrete, e quindi con un valore strategico, il valore strategico di queste cose, non tecnologico, non di ah che bello, hanno portato avanti di 10 anni, di 20 anni la tecnologia, per cui è anche giusto che abbiano il vantaggio del pioniere di sfruttarla, no, hanno portato, si sono messi sulle spalle di giganti e hanno avanzato, forse hanno avanzato in qualche punto l'esistente, l'hanno sicuramente integrato bene perché i sistemi operativi Windows che chi se ne dica sono di un livello che non sono comparabili a quello che erano solo 10 anni fa, però grazie alla combinazione di potere di mercato e di proprietà intellettuale stanno cercando di chiudere tutte le vie di uscita, l'unica che non sono ancora riusciti a chiudere, o forse l'unica, è il software libero, ma per quanto questo è un problema perché con le nuove evoluzioni con Palladium ad esempio e con la diffusione di DRM con l'impossibilità di accedere o con il controllo che qualcuno può fare di cosa io posso accedere, questo potrebbe essere un grosso limite per quello che noi stiamo facendo, cioè portare avanti il software libero. Quindi non è solo il punto di Microsoft ha torto, Microsoft ha ragione perché questa tecnologia va protetta o non va protetta, no. Se anche si trattasse di innovazione il fatto che io possa interoperare con dei sistemi è un bene in sé, è un diritto in sé perché il computer è mio, l'ho comprato io, la rete è mia, l'ho messa su io, sono io il proprietario, sono io che devo decidere cosa ci va su, cosa non ci va su, non un ingegnere di remo e gli dice attenzione a questa roba qui non può andarci perché non ha il codice di autenticazione quindi non può interagire con me perché io lo tratto come se fosse un virus, è un po' troppo comodo, quindi non sono libero di comprare oggi un programma proprietario e domani decidere di passare al software libero, una volta che io compro un programma proprietario e purtroppo questa è la situazione in cui ci troviamo perché se il 95% dei sistemi operativi e quindi negli ultimi anni il 99% dei nuovi sistemi operativi sono per PC sono di casa Microsoft è facile capire che questo effetto di vincolo di oggi rispetto a quello che comprerò domani è già verificato per cui è un passettino che io devo fare o che gli altri devono fare per prendermi fuori tira giù la clare fine del gioco questo c'è stato per tutti gli altri prodotti perché per i software è così importante mentre per i caffettiere per le sedie a sdraio per tutto quanto esiste in giro per le automobili non è così importante per le navi per gli aerei oddio adesso siccome tutta la tecnologia dei nuovi prodotti è software lo sarà sempre di più anche per i prodotti naturali ma per i software la differenza della sedia a sdraio e l'ho scritto nell'ultimo punto che il mio sedere non ha bisogno di un'interfaccia per sederci su una sedia a sdraio ma il mio software ha bisogno di un'interfaccia per comunicare con un altro software ha bisogno di una standa di comunicazione ha bisogno di chiamate che ciascuno conosce e di cui sono noti tutti gli effetti e sono documentati tutti gli effetti e previsti tutti gli effetti possibili perché altrimenti non posso con coscienza inserire il centonesimo computer con software libero ad esempio con Linux in una rete fatta di 100 computer di Microsoft non stiamo parlando di beni ordinari esistono delle profonde interdipendenze naturali che se si usa software libero sono normalmente dell'interfaccia standard o dei protocolli standard o delle chiamate standard comunque documentati modificabili a condizioni che vengano rilasciate ancora sotto software libero per cui io posso anche adattare le mie esigenze introdurre efficienza nelle comunicazioni ma esistono anche delle interdipendenze naturali create ad arte e qui come diceva giustamente Renzo prima lo prendo ancora con notte come autorità indiscutivamente è il cosiddetto effetto lock-in cioè grazie all'uso sapiente di interdipendenze anche create ad arte io riesco a costringere gli operatori i clienti gli utilizzatori a utilizzare ora e in futuro non solo il mio software ma di addirittura abbandonare il software vecchio e di doverne comprare del nuovo ci saranno anche le licenze che scadono e ci sarà la musica che scade e ci saranno gli sms che scadono ci sarà una ridefinizione del concetto stesso di proprietà dei beni di consumo che sarà contraddetto dal concetto di proprietà intellettuale quindi non solo proprietà intellettuale è una proprietà sull'idea che è un concetto sbagliato ma la proprietà intellettuale va su una cosa che invece è un supporto fisico e che io compro con una negoziazione che è identica a quella che ti uso per andare a comprare un pezzo di pane o un pezzo di formaggio per cui se è vero che nel mondo naturale e nel mondo antico dove non c'era il software le leggi sulle privative sono nati con pesi e contrapesi che allora erano sufficienti oggi questi pesi e contrapesi non sono questi pesi e contrapesi non sono minimamente sufficienti perché la realtà è nata molto oltre noi ricordate che prima abbiamo parlato di leggende di terrasco come rule of reason la rule of reason cioè il principio di regionevolezza nasce per adattare come principio di equità nasce per adattare il diritto alle istituzioni mutevoli quindi quello che andava bene vent'anni fa non va più bene adesso all'interno degli strumenti che noi abbiamo dobbiamo e possiamo avere un approccio creativo per riespandere i diritti di libertà che ci stanno per essere compresi da costruzioni tecnologiche e di mercato probabilmente dobbiamo creare delle situazioni in cui i principi di libertà intellettuale interoperabilità non vincolo tecnologico devono essere delle azioni positive del legislatore perché come per il panda un piccolo sconvolgimento tecnologico non di ambiente potrebbe portare all'estinzione di alcuni prodotti fortunatamente il software libero fino adesso perché è stato considerato meno importante perché è stato sottovalutato perché è intrinsecamente più vitale è riuscito a superare una moria di altri operatori di software proprietario in molti campi come dicevo prima quelli di red non sono deficienti hanno capito il trucco da un certo punto di vista hanno anch'essi adottato una strategia di rilascio di prodotti open source e ci sono delle licenze software libero di cui almeno una la MSPL è una versione a vidimento tra la LGPL e la DSD e quindi hanno un atteggiamento proattivo nei confronti del software libero e open source dall'altra parte capiscono che dove loro drenano la maggior parte di risorse in termini di effetti lock-in e lì possono metterci DRM T-CPA accordarsi con i fornitori di contenuti bla 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 perché tutti hanno un interesse che l'utente finale abbia una strada vincolata da seguire in modo che queste nuove tecnologie vengano veicolate e vengano essere necessarie e limitano la libertà degli utenti con la complicità degli utenti stessi però noi lo dico come utente lo dico come umile contributore a formare l'opinione pubblica non possiamo consentire che imprese dominanti o non dominanti o associazioni di imprese cammino il diritto per i propri interessi privati contro il diritto creando una legge privata come DRM non possiamo consentire che la sovranità che il secondo punto non è altro che il comma secondo dell'articolo 1 della Costituzione italiana venga violato il principio che la sovranità partiene al popolo al popolo non ha un decision maker del Nord America che l'esercita nei modi e nei sedi previsti della legge l'iniziativa privata è sicuramente libera abbiamo fatto le guerre per mantenere l'iniziativa privata libera però questa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale per cui lo svolgimento libero di una sana competizione è un non abuso dei diritti che lo diritto stesso concede come guarantigia come diritto eccezionale non possiamo consentire che tutto ciò si ritorca contro il diritto stesso e venga privata sovranità da chi legittimamente dovrebbe averlo i concetti di questa ultima slide e quindi concludo sono stati già più o meno esposti nel corso della discussione il software libero è rimasto ahimè anzi grazie a dio l'unica forma di concorrenza vitale in molti campi grazie a Rick Stoman e grazie a tutti quelli che hanno scritto di software libero che hanno realizzato tutto il libero quelli che ogni giorno combattono sul campo in molti campi è l'unica alternativa sistema operativo è chiaro browser abbiamo visto come il fatto che il browser internet esplore si è passato dal 95 al 90% del mercato e il Firefox abbia conquistato una piccolissima protezione del mercato ma Microsoft ha subito detto ok facciamo quello che non volevo fare mandiamo fuori una nuova versione di Microsoft Explorer che più o meno replicherà le funzioni innovative che altri browser come Opera come Firefox hanno Work of Blind Server Samba è un esempio che consente a Linux di convivere più o meno bene in una rete di computer basati su e di server basati su protocolli di Microsoft ovviamente il software libero è l'oggetto principale nessuno se lo nisconde nonostante che tutte le persone di Microsoft con cui parli dicano ma no ma noi ci rendiamo conto che in realtà anzi noi vogliamo cooperare con lo consorso si guardano bene di parlare software libero non abbiamo nessuna tattica di annientamento anzi vogliamo combinare ma nella pratica dei fatti vediamo che ogni decisione che viene presa è oggettivamente e penso soggettivamente contro i software libero e il software libero è il facile obiettivo delle legislazioni pro brevetti attenzione abbiamo fatto una campagna in Europa per evitare che una pratica illegale cioè la verificazione di invenzioni di software puro che sono attualmente registrati dall'EPO venisse legalizzata a posteriore però questa cosa ce la stanno rinfilando ogni volta sempre sempre con meno con meno clamore quindi bisogna tenere in in grande in grande evidenza questo problema e pro DRM e qui ormai ci siamo perché vista è alle liste perché DRM ci sono già negli iPod ci sono già nei DVD ci sono già dappertutto e c'è anche una legislazione che dice tu hai il diritto di fare la tua copia privata ma se tu hai un dispositivo come il DEX cioè come il dispositivo come protezione non puoi usare un DEX perché questo è un strumento atto da girare una protezione fatemi capire se io sono un medico e devo andare a salvare una persona e c'è uno che ha parcheggiato davanti al mio garage posso spaccargli il vetro tirargli la marcia spostare la macchina uscire e andare avanti in questo è un caso una legislazione se io sono un utente che ha un diritto pari o superiore a quello incomprimibile quindi con una una sanzione di nullità di un accordo contrario non posso fare quello che è una legittima difesa esiste già grazie a legislazioni come le UCD o come il Digital Millennium Act degli Stati Uniti esiste già una legislazione che eccessivamente pro DRM i DRM stanno diffondendosi sempre di più attenzione che prima o poi gli effetti si sentiranno e si sentiranno molto intensamente ma sarà troppo tardi perché ci troveremo nella stessa situazione in cui ci trovevamo dieci anni fa quando si cominciava a dire attenzione al monopolio attenzione a questa espansione attenzione bisogna metterci un freno non è stato fatto niente per dieci anni per abili tattiche legali di avvocati molto bravi che però hanno consentito che gli effetti evusivi individuati dieci anni fa o otto anni fa quantomeno si protressero fino adesso e non abbiano una una verosimile fine entro due o tre anni per cui vi ringrazio per l'attenzione e a presto il prossimo grazie a tutti grazie a tutti